Allora 60 all'ora per primo muro di bieridi rossi che vedete appena quindi prima o seconda marcia 60 all'ora mi raccomando mantenete quello che si sta fino al bieridi rossi mollato il gas si è stata qua perché immaginatevi un sacco improvviso lì dietro la strada caprioca qualche vuole per voi lei magari però ogni 2 o 3 strada mollato il gas si è stata brusca la macchina va a smandare si può identificare ma che è finato? grazie grazie